E' un bacino al tio, un besito al tio Il tio Matteo, un bellissimo cuore Poi la Gabri Ferragni, eccola qua La Gabri Ferragni è rimasta a Milano, sotto la bruma milanese In realtà non è mai arrivata alle Maldive Questo è quello che vede Ricchini Nicoletti quando si sveglia Lei invece è rimasta appunto a casa Questo è un bellissimo video che io non vi ho mai fatto vedere Perché anche io faccio delle cernite quando faccio i video Ma guardate Edoardo che imita la Gabri La Gabri si buta per terra, fa il disastro, si rotola Eccolo qua, Gabriellino Ferragni Eccolo qua, bellissimo Gli manca solamente il pelo grigio per assomigliare alla nostra cagnolina preferita Davvero, no Lei è preferita adesso, ma di solito a me Paloma piace Tutte e due in realtà, non so decidermi Io con i cani sono neutrale I cani piacciono tutti, belli e brutti Ma possono anche farvi più addosso Sapete che io li amo da morire, vi lascio così Ciao Ciao